come detto poc'anzi di fast food sarebbe praticamente da evitare anche se potrebbe essere la panacea per molte casalinghe disperate o per molti studenti fuorisede insomma per chi vorrebbe togliersi degli sfizi ma è chiaro però che la parola fast food rievoca già al cibo veloce quindi già quel cibo che risulta essere processato preparato all'inizio industrializzato e ulteriormente cotto fast food ricordiamo poi uno di quelli più famosissimi che non citerò in questo video per ragione di copyright ma che nacquero già negli anni 50 in america nascevano prettamente con l'utilizzo stesso di essere a portata di tutta la popolazione disponibile a brazzo prezzo sicuramente e cercando comunque di coprire la richiesta comunque nutrizionale non al top sicuramente per allora ma per quanto riguardasse di fatto la sostanzialmente la sintesi di bloccare l'appetito in corso questo perché fast food veniva incontro alle esigenze delle famiglie americane stesse anche perché prettamente nascono in terra americana ovvero sia un cibo pratico e rapido da poter fare processare cucinare in pochissimo tempo questo per via dell'allargamento delle famiglie dell'orario di lavoro modificato che non presupponeva più il fatto di poter cucinare tranquillamente comunque seduti in comunità con altri quindi spesso in famiglia ma spesso fuori pasto per lo più o anche fuori della propria abitazione non è un caso di fatti che fast food rievochino di molto la cucina tradizionale stessa anche come concetto di famiglia di ritrovo di per sé è idilliaca la cosa ma se guardiamo quello che c'è in un fast food andremmo comunque non spaventarsi ma non poco questo perché il fast food prevede comunque l'utilizzo di elevati cibi industrializzati sicuramente ma con molti molti condimenti quindi salse salsa barbecue ketchup maionese un grosso introito di sale il sale nel fast food è veramente molto elevato e questo potrebbe essere una causa dei problemi di ipertensione di persone che sono già soggette o persone che molte volte spesso si alimentano nei fast food attenzione non voglio dire che siano il male assoluto se uno va qualche volta non succede niente però chiaramente un'alimentazione continua con assunzione di prodotti da fast food sicuramente non giova la nostra salute ecco che oltre a ciò bisogna tenere conto anche del tipo di cottura fast food è spesso sinonimo di frittura la frittura va a produrre comunque tutte quelle sostanze cancerogene tra cui per esempio l'acroleina nelle patatine fritte che possono causare anche reazioni allergiche in alcuni soggetti non solo viene a modifiche di alcuni tipi di grassi i grassi trans in cui si ha il cambiamento della conformazione da cis a trans il problema dei grassi trans è che sono dei grassi che tendono ad accumularsi soprattutto nel fegato e questi grassi trans a lungo andare diminuiscono la funzionalità epatica sia come fegato grasso quindi si presenta un fegato molto globoso e bianco quindi come se fosse infarcito di grasso ma anche la sua capacità di depurazione e difatti la problematica del fast food stesso è quello di sovraccaricare il corpo comunque di calorie inutili ma anche di tossine ecco che come si è visto in moltissimi documentari ma anche in super size me si è andata a recuperare questo film vedrete che se mangiare tutti i giorni a fast food letteralmente ci porta a morire ma questo perché perché sovraccarichiamo il nostro corpo di grassi zuccheri e sale non solo anche di proteine ma in minima parte perché dico in minima parte è vero che c'è molta carne ma una carne processata meat processed raw ovvero la carne grezza processata da questa particolarità sembra che io stia mangiando proteine in realtà io mi sto mangiando proteine una grossissima quantità di sale salse salsine grassi ancora olio è buona la tattica comunque di avere per sé l'insalata stessa questo per andare a alleggerire il pasto e sicuramente una non critica che faccio quindi un punto a favore è che moltissimi fast food ora sposano anche la linea vegan o veggie ci sta assolutamente questo perché per far capire che non posso sempre comunque dare a livello di marketing il classico panino untuoso oleoso ho detto anche pagnaro dell'urido perché devo venire incontro all'esigenza di una clientela che è più attenta alla nutrizione paradossalmente in un fast food che attrae ancora di più ecco che il menu stesso del fast food si è evoluto nel corso degli anni sino anni 80 90 inizio 2000 per venire incontro a queste esigenze attenzione però come ripeto prima non c'è nulla di giusto sbagliato che faccia bene o faccia male se io mangio qualche volta lì assolutamente non mi succederà nulla e io sarò contento come il mio palato stesso anche perché avrò buttato giù un grosso mix di zucca di grassi anche di sale che esalterà di molto il sapore delle mie bevande stesse ma anche del cibo solido ma non deve diventare un'abitudine questo perché per fast food io voglio intendere tutti quei cibi che sono processati con una modalità ultra rapida oramai spesso vengono associati anche alla frittura ora anche un po' meno con altre metodiche magari la la braccia per esempio il barbecue ma che sicuramente non traggono comunque beneficio per il nostro organismo è chiaro faccio un altro parallelismo incredibile ma non ne voglio assolutamente nulla contro i fast food dico solo che è uno stile di vita che se approcciato sempre al fast food può portare comunque a delle problematiche la problematica stessa appunto che cos'è è questa un individuo non può vivere solo di fast food ma come sempre di base deve avere una dieta varia ed equilibrata e ogni tanto concedersi il buon paninozzo big mac quindi buonanotte